Ciao a tutti benvenuti nel nostro nuovo video La destinazione di oggi è di fronte Andiamo al mare Andiamo a recuperare Daniele E poi ci andiamo Andiamo a fare un po' di casino a spiaggia Ci vediamo quando arriviamo Siamo arrivati a Livorno Stiamo andando al mare C'è anche Daniele Andiamo a vedere come è questa spiaggia Spiaggia Academy 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 Certo, come pranzo, la fraccaccia di Graziella con il prosciutto corto perché non sembrava a caso di metterci la torta. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Commenti dopo essere più ucciso, commenti post... Non ti sono ucciso! Ti ho ucciso è già qualcosa. No vabbè un taglio, ma quello è mermato. Io ho remato praticamente un'ora qua sub come cazzo si chiama al contrario. Oppa, grande Iari! Ti vogliamo così. Commenti tuoi? Ti stavo riprendendo. Mi sta facendo il video. E niente, ci vediamo dopo. Scusa, mettetevi così, io salvo. Sì, ma ti devi buttare qui. Aspetta, mi vedete. Stiamo organizzando come tuffarci. Ma io non volevo tuffarmi. Ma faccio stabilizzare almeno. Sta bene. Ma ci stabilizzare almeno. C'è un vomito dal naso. Molle di vomito dal naso. Soffi in silenzio e rimonta. Soffi in silenzio. Andiamo. Sei spenta la copronta. Mamma, io sono fermi i festi. Fermo. Qua volevo fare la figura di Afro Yoga. Rikki. Da, dono. Fermo. Dove è? No, non ce l'ho fatto. Due. Le lenti. Se la vi. Ti guardo il volo? Sì. Guarda qua te. Non so se ce la faccio. Fuori di farti le mani. Ora proviamo. Sì. È brutto da vedere però. Sembra che fate dell'altro. Non me la uccide però. Stai che sta morendo. Ci sei? Ci sei? Ci sei? Non me la uccide. Stai morendo sul fondale. Si è caduto. Baio. Dai, li proviamo. Lontaglio. Ci sei? Non ci dobbiamo più salvitarci. Asqua. Ahaha. Uhu. Oddio. niente no come stai bene bene eccolo di volare che c'è? è un abituato eh poi c'è il classico adesso faccio un po' che cazzo non ci arrivo oh no 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 bene vai si vado qua vai sai cos'è l'ef5 no non lo scoprirai non lo scoprirai non lo scoprirai non lo scoprirai non fare queste cose a casa ok questa è quella che devi fare a casa addio le palle e addio gli altri mi stanno le palle potrebbero servirle ancora però ci sono anche che bello ciao uno due tre due questa è la fede la fede la fede la fede la fede la faccia come era la faccia del prigionista, la faccia del carcerato che scudo, che cosa fu mai visto?